Visto che ci sono qui questi problemi, adesso abbiamo un po' di questo profumo, cos'è? Cacharel? Ah no? Cos'è che è? Si legge qualcosa? Sì, l'ho provata ma... Il tappo è durissimo! Ah, è durissimo! Oh, bisogna fare qualcosa contro questo coronavirus, no? E io mi do da fare, mi do da fare e comunque ricordatevi che l'alcol va diluito sempre con un po' di acqua, per cui un cubetto di ghiaccio va bene, io non sono appassionato di grappa, ma vabbè, se mi tocca fare questo contro il coronavirus, ecco, va bene. Lo faccio per l'Italia, lo faccio per il Veneto, lo faccio per Vincenzo, lo faccio per Tiene, lo faccio per la mia famiglia, disinfettiamoci.